Ciao! Ti sei già iscritto al nostro canale? Allora andiamo a vedere il nuovo volantino. Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Ehi, lo sai che se arriviamo a 20.000 iscritti pianteremo un nuovo albero? Dai! Iscriviti anche tu! Su trovavolantino.it, le offerte della tua città a portata di invito. Vuoi vedere un altro volantino? Scopri e subito su trovavolantino.it Un altro volantino? Non c'è il bisogno, il coraspore il mare. Ma in cielo come vede il委vito.it, nel situ si che fa, oppure leHEade o perché lo vede in ingliore. Ehi, sicché voi tenere suovlaaisia.it, le Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.